La piadina come patrimonio dell'umanità Però da questa idea è nata un'iniziativa ben precisa, giusto? Cioè quella di rivolgersi niente meno che alle Nazioni Unite, all'UNESCO per iscrivere questo prodotto non gastronomico nel patrimonio dell'umanità In che cosa consiste questa iniziativa? Come è nata? Il suo giro qua in zona del ministro Dario Franceschini il quale ha detto perché solo la pizza può essere patrimonio dell'UNESCO anche la piadina può fare questa strada A questo punto non ha fatto altro che accelerare i nostri tempi La regione poi è quell'aggancio che puoi parlarne con il ministero delle politiche agricole per poter portare avanti questo progetto che sta a cuore a questo punto Come sta andando il processo di farsi conoscere di più all'estero? Già, tanti romagnoli si sono sparsi un po' per tutto il mondo e hanno portato questo prodotto, no? Facendolo lì, lì al momento come fanno tanti bei chioschi che abbiamo qua in zona Per adesso noi cominciamo con la Germania perché i tedeschi sono stati quelli che ci hanno un pochettino invaso negli anni 60-70 le nostre zone Che più ci conoscono, più hanno fatto scorta Esatto, esatto, esatto Poi i francesi e poi il resto dei paesi nordici Grazie! Grazie!